e' morto perso di roma stagliere radici vabbè e' bravo mandai caduto è libero non è vero non so se ci avete fatto caso che è sciso la stamina ok tipo adesso ci da 570 di vita in più 569 67 siamo 112 di stamina non so adesso conto da ogni colpo di stamina allora dobbiamo consegnare tutte le poste adesso ah teoricamente mi avevano dato anche la pozione da usare vabbè noi andiamo senza senza preoccupazione via allora vediamo sping attacca sbloccata l'attacco primaveriglia non è quello l'ho nominato male io l'ho l'ho trovato un'armatura nuova che non posso usare che è bello che è bello ora lo posso usare voglio che a prendermi per le schifo prezzo prezzo si vorrebbe prendiamo questo e il nostro diciamo insegnante dovrebbe serlo per il mio uomo film barch quindi cazzo testo proviamolo subito è colpo di scudo non sarà troppo veloce da attaccare anche se effettivamente non è che il lanciare si prende per la velocità d'attacco assolutamente anzitutto il contrario il castello è quello che ci penso non va bene per i guerrieri comunque se le avvicinate va bene più che altro per arcieri maghi cosa così perchè voi mi avete piaciuto dentro il nemico l'uomo poi se voleste provare tipo qual è meglio per più piccoli sono un altro più vero appena finita dell'area potreste tipo provare a spedere vostri amici intanto più gente vi chiamo più la gilda è grande non so se ciò comporterà cose migliori però proviamo magari tipo una volta ogni domenica cose così faremo un evento di gilda cose così tanto io ho fatto i ricordi in un momento il prezzo il prezzo il prezzo passiamo un siamo senza mano ci sono tantissimo questa carota come spada che è un ombrello Guarda che ti ha grato, non da me Anche se effettivamente c'ha ragione, l'ho agarrato io Ah, questa qua deve usare in combo Ma intanto i mob ci dropperanno tipo qualcosa utile per correre di più diciamo Tipo gli speed mode Cosa che fa... che... no, non fanno su BAM Il mio scopo non fa quello ma sputo delle palline che ti spudano Cioè ti curano Ti scudo Oh, non ce la faccio sta notizia Andiamo Allora, guardiamo di cuore Allora, guardiamo di cuore Non ho ancora capito cosa serve per senso Certo, sono... sono scopo Sollini Non sono poi Giro, 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 tondo Perché c'è una cosa rosa Cosa brutta Ma allora Eccolo qua Eccolo qua Il petto del messico Guardate po' che è bello Che poi non vorresti vedere col popoli Cioè, dovete mettere Allora Mi ha dato una corazza nuova E uno scudo nuovo E tutto quanto qua nuovo E lancio scudo E' qui per aiutare Quindi dove do zoom Dove è il tuo carello? Da qua Infatti adesso c'è la stamina al massimo Mi si è fatto male For the federation Mi memory in due Ok Allora Ok, vedi Andere che non come fire ok i i e e e e e e e andiamo di qua dai bibitto bibi che non è bibi fantasia che c'è l'anno grazie nel loro foro del studio dobbiamo andare di qua orchetti orcan guardian guardiamo questo modi dobbiamo attaccare povero l'uomo allora uno in meno un altro quarto nord che mi cura ti devi spaventare eh si vuoi sembra che dice ti risponderà veramente quando fa quel cavolo di post un deserto c'è giusto per vederlo come si case quanto è stato giro quanto è stato giro orca paradiso sicuro ora parliamo con la tizia e andiamo di qua l'uomo per favore del giro con la carota con la squadra ma per se non più ma anche i monti ma anche lordi, chi è che è il wukong? vabbè, i miei servitori mi... i miei servitori mi vendicheranno ora dobbiamo attaccare questo ma anche se mi avvicina un sacco Fa un bel po' male I suoi critici sono anche abbastanza Frequenti Eh vabbè Speedmode, nice Allora Un common ground Grazie Grazie